Mi manca un aggeggio Oh, non so se l'audio c'è, c'è, ok Mi mancava un aggeggio per farvi vedere quello che andiamo a fare oggi Sì, dicevo mi mancava lo smartphone per realizzare il video di oggi Perché il video di oggi riguarda un accessorio per, non solo per il video Però principalmente per il video Che sarebbe questo Inkey Bandbox Inkey sarebbe Andy Sine Che è la marca che produce dei fantastici monitor da campo Andy Sine mi ha raggiunto per chiedermi se volessi fare una recensione e test di questo video trasmettitore Per smartphone Cioè praticamente con questo voi mandate il segnale dalla vostra videocamera al vostro smartphone Per monitorare l'inquadratura che avete realizzato o che dovete realizzare E anche in questo caso Andy Sine è stata così gentile Da darmi la possibilità di regalarvene uno nella descrizione del video Trovate le regole per partecipare al contest E dopo la sigla vi parlo di questo accessorio E andiamo a vedere che cosa continua la scatola E quello che potete farci Io ho comprato un po' di tempo fa L'Andy Sine Andy Sine non saprei come dire 4K Lite Che è un monitor E il monitor che sto usando sulla X-T3 Che mi sta riprendendo in questo momento È un monitor da Non ricordo quanto Devo ancora fare la video recensione Sto raccogliendo un po' di informazioni Ne sto facendo un uso intensivo Prima di potervi fare una recensione completa E questa bandbox sostanzialmente che cosa fa La stessa cosa che fa un monitor da campo Però wireless sul vostro smartphone L'applicazione di questa cosa qua Quale potrebbe essere molto semplicemente E molto utilmente Nel caso in cui abbiate una videocamera come la X-T2 Piazzata così lontano Lontano rispetto alla vostra videocamera principale Vi faccio vedere dalla Sony Quanto è lontano Saranno 3 metri Anche utilizzando un monitor sulla videocamera Ovviamente voi non riuscireste A controllare l'inquadratura Non riuscite a capire se siete a fuoco Tutta una serie di cose Tipo anche controllare l'avvio E lo stop della registrazione Perché tramite questo riuscite a fare anche questa cosa qua Non lo riuscite a fare sulle macchine Fuji Ma sul sito del quale vi lascio il link nella descrizione Trovate la lista di videocamere compatibili con l'applicazione Delle quali potete controllare alcune funzioni Adesso andiamo a vedere che cosa c'è in questa scatola Ma vi preannuncio che sostanzialmente c'è il trasmettitore E una serie di cavi I cavi servono per collegare appunto le vostre videocamere Allora Questo è l'accessorio in sé Il laggeggio in sé La costruzione è interamente di metallo Veramente simpatica come cosa Anche l'attacco qui e la slittina Vediamo se mettiamo a fuoco Ok Anche questa slitta qua Questa rotella Anche la rotella della slitta è in metallo Ci sono tre porte Una porta USB Una porta USB-C E un HDMI La porta USB serve per collegare questo alla vostra fotocamera E tramite questo collegamento riuscite a controllare tramite l'app Alcune funzioni della vostra fotocamera Inoltre La batteria inclusa in questa Benbox Che è di 2500 mAh Riesce eventualmente ad alimentare anche la vostra camera Se si potesse scegliere di non fare questa cosa sarebbe meglio Qui abbiamo un pulsante on off E presumo che tenendo premuto parta il wifi Vi faccio vedere subito Ok tenendo premuto parte la rete wifi E in più on off vi dice la carica rimanente dell'accessorio in sé Perché lo chiama accessorio? Oggi mi è venuta sta cosa di chiamarlo accessorio Allora come vi dicevo Non so perché si chiama in chi Come vi dicevo dentro qua c'è un libretto Che riporta la scritta di Andy Sini Qui ci sono delle istruzioni In giapponese Quindi non ci servono Ma è molto semplice Vi spiego io come fare C'è un cavo USB con questo tipo di attacco qua Jack che non so che cosa sia E ci sono dei cavi USB-C Vari tipi di USB Micro, Mini, eccetera Allora la premessa Vi dico subito E che con le Fujifilm Non c'è la possibilità di controllare da remoto la camera Cosa che sarebbe stata veramente molto utile La cosa che manca qua dentro è un cavo HDMI per far andare il segnale Questa è una cosa che insomma poteva essere fatta Diciamo così Allora io faccio partire Oltre che una registrazione schermo Faccio partire Prima mi collego Non è questo Allora la questione è questa Questo telefono non vede la Wi-Fi della Benbox Mentre l'iPhone non la vede Non so se è un bug o cos'altro Va bene Facciamo questa cosa con Con l'iPhone Eccolo qua Così vi faccio vedere Anche tramite la registrazione schermo Qual è l'app L'app è questa Su iOS Su Android invece Che cosa ho dovuto fare Sono dovuto andare sul sito Scaricare l'app Me la sono passata su Google Drive L'ho scaricata da Google Drive E installata sul Sul telefonino Perché a quanto pare Non c'è l'app Sul Play Store Ho chiesto informazioni Ma Adesso si apre l'app L'app Desidero di utilizzare il Bluetooth Ok E allora Direi che Colleghiamo in maniera molto Spartana Dicevo colleghiamo in maniera molto Spartana La Benbox La vedete qua E vedete sul Sul telefono Che sono Online E quindi Riesco A ricevere Il Il segnale Devo dire che Come potete vedere anche voi Non c'è tanto Lag Rispetto Al Al segnale che arriva L'app Devo dire che Oh Un attimo Lascio lì Penzoloni Allora L'app Devo dire che È Simpaticamente Simpatica Anche se Si sovrappongono un po' Con le scritte Della Della videocamera Qui abbiamo la possibilità Di scegliere lo streaming Se è 1080 O 720 Ci abbiamo la possibilità Di scegliere Il livello Zebra Questo tasto qua Ti fa vedere Una griglia E qua ti fa Installare Un Un loot Cioè ti fa installare Ti fa previsualizzare Dei loot Questi loot Non sono Scaricabili E non si può Neanche caricare Un loot Su questa Su questa applicazione Dato che ho Fuji Come vi dicevo Non Non c'ho la possibilità Di controllare La videocamera Adesso vi faccio vedere Quello che vi volevo Far vedere prima Ovvero Riuscire a controllare E vedere Il framing Di una Fotocamera Videocamera Che tenete Lontano Vado Vado subito E ritorno Eccomi qua Benissimo Come vedete In questo momento Sto ricevendo Il segnale Della XT2 Che è piazzata Lì in fondo E come potevo Non come potevo prevedere Come potevo Non prevedere Ecco adesso Sono a fuoco Con la XT2 Giusto cara Perché c'è il focus peaking Ecco adesso Dovrei essere a fuoco Che cosa ti dà La possibilità Di fare Un sistema del genere Di controllare Appunto la tua inquadratura Se sei a fuoco Se non sei a fuoco Ed eventualmente Di fare Tutti gli aggiustamenti Del caso La cosa che mi dispiace Che confugi Non riesco A controllare La videocamera Quindi a dare lo start And stop Da una seconda inquadratura Questa Sarebbe È la cosa Ulteriormente utile Rispetto a Alla sola Trasmissione Del video Che già di per sé È una cosa Grandissima L'altra cosa Interessante Da segnalarvi È che Tramite l'app Riuscite a Aggiornare Il firmware Della Benbox In più Riuscite a Scaricare Delle loot Che servono A convertire I segnali F-log Log Non F-log I segnali Log di alcune Camere Tipo le Sony Le Panasonic E le Fuji In REC 709 Utilizzando appunto Questa Utility Dove è Close Quest'utility Delle loot Qua Io non so perché ci sono queste Ma chi le usa Le loot In bianco e nero Mi sto affissando Un po' troppo Va bene Va bene Ok Questa è Una cosa Adesso voglio provare Se con la Sony Riusciamo a controllare La camera Da quest'app Ok No Neanche con la Sony Riusciamo Almeno con la 6000 A fare A controllare La fotocamera Tramite L'app Però c'è tutta la lista Di fotocamere compatibili Sul sito Voi andate a vedere Quelle fotocamere lì Se sono Compatite Se tra quelle fotocamere lì C'è anche La vostra Allora Una cosa che mi è venuta in mente Da farvi vedere Con la Benbox Ma è una curiosità Che mi voglio togliere Anche io E quanto sarà Il range D'azione Di questa Benbox E Mi sono trovato qui Il fantastico Ciccio Tenuto Che invito qui A fianco a me Ciao Lui è Francesco Tenuto Ve lo ricorderete Per video Come XT3 Unboxing Unboxing XT3 Qualcosa abbiamo fatto E adesso che cosa facciamo Siamo già collegati Con la Benbox E la GH5 La nuovissima Fiamma del GH5 Di Ciccio Che ha questo Questo cavo Grandissimo Ma non sono fornito Di cavi piccoli Cioè più corti Se voi conoscete Dei cavi corti Che hanno L'HDMI grande Scrivetelo nei commenti Mettetemi il link Così Magari la prossima volta Proviamo quello Useremo uno di quelli Anche perché questo qua Sul gimbal Non ce la fa mantenere Questa configurazione Adesso Ciccio Fa partire la registrazione E se ne andrà Per le strade Di Cosenza È andata Sì Io qui vedo Il pallino Vedi come È simpatico È partita È partita Te ne puoi andare E poi ci ritroviamo Qui Ti fermo Quando Non vedo più niente Io mi affaccio Alla finestra Come Ciccio Ti do una brutta notizia Piove Non lo so Te la senti Vai Che bello Piove Ecco Ciccio Che si appresta Ad uscire Dal portone Gira a destra Stai attento All'esposizione Stai attento All'esposizione Ciccio Che è tutto bruciato Benissimo Così possiamo vedere meglio Questi Quest'immondizia Che A Cosenza Insomma È per strada Il segnale Inizia ad arrivare Un po' disturbato Cioè Nel senso Arriva un po' A scatti Ciccio La Benbox È arrivata Circa a 10 metri Di distanza Che mi sembra Anche Una distanza Ragionevole Sento la presenza Di Ciccio Che mi sta inquadrando Da quel lato Ecco Perfetto Benissimo Ci siamo tolti Questa curiosità Di vedere Quanto lontano Va il segnale Wi-Fi Circa una decina Di metri Se ci sono ostacoli In mezzo Niente Riprendete Il video Ok Allora Vi devo fare Un aggiornamento Prima di Chiudere Il video Sostanzialmente Mi sono accorto Che questi Cavetti qua C'hanno Una Una linguetta Dove c'è scritto Micro USB Main USB Ad ogni modo Mi sono accorto Che c'è un cavetto Con la linguetta Sony E collegando Il cavetto Con la linguetta Sony Mi sono spuntati I due controlli Per Mandare In In rec Sostanzialmente La videocamera Sony Quindi Tramite la videocamera Sony Riuscite E il cavetto Corretto Ovviamente Riuscite a controllare Tramite l'app Riuscite a controllare Le Sony Anche la A6000 Che è una macchinetta Un po' così Datata Prego A te La linea Per parola del passato Bene Come al solito Una recensione Davvero Di quelle Scalcinate Che però Vi da Modo Di Costatare Quanto facile Sia Utilizzare Questo Accessorio Questa Bandbox Che vi fa vedere L'immagine Della vostra Fotocamera A distanza La distanza Segnalata Da Indicine Sono 100 metri Ma diciamo che Anche fossero 25 Direi che È una Distanza Di tutto il riguardo Bene Grazie a tutti Non dimenticate Di partecipare Al contest Grazie a tutti